La procura di Milano indaga con l'ipotesi di reato di strage, al momento a carico di ignoti, sull'incendio del magazzino gestito da una famiglia cinese scoppiato giovedì sera in via Cantoni, zona Certosa, nel quale sono morti tre giovani. Le vittime, due fratelli di 17-18 anni e un ragazzo di 24 anni, erano ospiti e stavano dormendo nel grande locale, usato anche come showroom di arredi. Nei prossimi giorni saranno effettuate le autopsie sulle giovani vittime. Allo stato attuale non ci sono certezze che si sia trattato di un gesto doloso, ma questa è l'ipotesi più accreditata al vaglio delle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco, coordinate dal procuratore di Milano, Marcello Viola, e dal PM Luigi Luzzi. E ciò anche in relazione alle presunte minacce nei confronti del padre e della madre del titolare dello showroom. Infatti la famiglia che gestiva il magazzino ha denunciato che sia il giorno prima che la mattina del 12 settembre il padre e la madre del titolare sarebbero stati avvicinati, prima l'uno e poi l'altra, da una persona che con un coltello li avrebbe minacciati dicendo loro che dovevano versare 20.000 euro. Una richiesta relativa a un debito pregresso e non quindi legata al pizzo sull'attività commerciale. Il nucleo investigativo dei carabinieri su questo capitolo della presunta estorsione sta facendo accertamenti, anche analizzando i conti delle attività gestite dalla famiglia cinese. In più, sul fronte delle analisi tecniche, i vigili del fuoco stanno verificando se il rogo, come più probabile, sia partito dalla zona del magazzino più vicina all'ingresso e alla strada e attraverso un innesco cosiddetto lento, senza acceleranti e se qualcuno possa aver gettato dentro qualcosa per appiccare l'incendio, rompendo una finestra del locale. Continua su questo fronte anche l'analisi delle telecamere di sorveglianza. Intanto, gli esami tecnici degli esperti del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco saranno arricchiti e potenziati dalla presenza di un'unità cinofila specializzata nella ricerca di acceleranti di fiamma, quelli che gli inquirenti attendono per stabilire l'esatta origine dell'incendio. Il conduttore e l'unità canina sbarcheranno giovedì a Milano provenienti dal comando di Palermo e da venerdì saranno a disposizione del NIA. L'impiego di tale unità è risultata molto preziosa in casi analoghi, in particolare in quelle in cui si ipotizza in un incendio l'utilizzo di liquidi infiammabili come causa accelerante del rogo e dove l'uso degli strumenti classici come il rilevatore a fotoionizzazione non è in grado di rilevare concentrazioni significative.